Ti piacerebbe sfogliare il burda style di settembre 2021 e scoprire quelle che sono le anticipazioni della moda per cucire il tuo guardaroba fai da te dedicato alla stagione settembre, ottobre, novembre? Ti piacerebbe scoprire quali sono i disegni tecnici, i figurini e come vestono poi nel cartamodello? Vorresti pertanto scegliere quale tessuto si presti maggiormente per quale cartamodello e soprattutto vorresti imparare a mixare i cartamodelli, magari prendere la gonna di un modello, il corpino di un altro o scoprire quali modifiche puoi apportare ad ogni singola cartamodello del burda style settembre 2021? Se vogliate sfogliare con me la nuova rivista di burda style 2021 sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuciamiche e cuciamici della vostra sarapogliese socialist ed esperta di cucito e benvenuto o benvenuta a te se è la prima volta che approdi in un video qui sul mio canale youtube Se così fosse ti invito a spulciare qualche informazione in più su di me direttamente nella mia pagina facebook, nel mio profilo instagram ma anche nel mio blog sarapogliese.com Che è il contenitore gratuito di tutorial dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo, ai progetti anche non cuciti, tutorial dedicati agli strumenti per il cucito, dalle macchine per cucire, alle tagliacuce, ai piedini, ai manichini sartoriali, fino agli sfogli delle riviste Come puoi anche vedere nel video che stai visualizzando in questo momento Ma anche interviste, negozi, shop dove puoi andare a trovare la possibilità di regalare delle gift card, regalare dei corsi individuali, dei corsi di gruppo, puoi anche scegliere i corsi per te o i cartamodelli E soprattutto per quanto riguarda i corsi puoi avere anche a disposizione un'altra piattaforma, la mia seconda creatura sarapogliese academy E' la piattaforma dedicata a imparare a cucire online meglio ovunque Dove puoi trovare tanti corsi in diretta dalla mia craft room dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo, alla bc del cucito, categoria ideale se vuoi iniziare a compiere i primi passi nel mondo del cucito E anche la categoria dedicata alla modellistica e ai cartamodelli Trovi sempre ogni video corso corredato da tante informazioni utili Trovi anche i corsi magari in offerta E all'interno di ogni corso puoi scoprire come applicare le tasche, creare scollature perfette, creare le abbottonature fantastiche Ma appassionarti anche alla modellistica creando i tuoi cartamodelli su misura e che vestano in funzione della tua fisicità Ma trovi poi anche corsi dedicati alla taglia cuci, alle tasche, all'applicazione delle cerniere Insomma trovi davvero tantissime informazioni molto molto utili che ti aiutano a imparare a cucire online meglio ovunque Che puoi pertanto visualizzare da qualsiasi dispositivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24 comodamente a casa tua in totale sicurezza Ma entriamo nel vivo di questo sfoglio della rivista Burda Style settembre 2021 Perché iniziamo fondamentalmente con lo sfoglio della rivista La rivista inizia con questa cover coloratissima che ammetto mi piace davvero tanto E dopo le prime pagine fondamentalmente di preview insomma di informazioni iniziali Arriva subito il trench doppio petto 104 Nelle taglie dalla trenta sala 44 delizioso per in realtà ogni fisicità Perché lo si può realizzare in cotone, lo si può realizzare in jacquard Lo si può realizzare anche volendo in tessuti idro repellenti Per realizzare appunto un trench perfetto fondamentalmente anche per le giornate pievose È molto lavorato ma non è difficile e lo consiglio per chi comunque ha un po' di pratica dedicata al cucito Perché è un progetto decisamente lungo Entrano i pantaloni con le balze 103 Allora questo stile è un po' hippie, sarà un po' il comune denominatore Hippie style, pizzi, merletti Questi pantaloni fondamentalmente ti consiglio, se non ti piacesse la zampa sotto Di farli scendere completamente diritti nel cartamodello E ottieni un pantalone dalla linea morbida senza la zampa inferiore Ottimi pertanto con tutti i tessuti fermi Qui non sono richiesti tessuti elasticizzati Fai la modifica della rimozione della zampa E hai ottenuto un pantalone dal taglio morbido molto più classico Molto carini gli shorts da bambina 133 Nelle taglie dalla 110 alla 134 Sono uno stampo decisamente evergreen per le lavorazioni Perché lo puoi realizzare in tessuti fermi Ma lo puoi realizzare anche durante l'inverno un velluto E sono dei pantaloncini decisamente molto eleganti Se li fai in lino invece sono perfetti per l'estate Se li fai in cupro sono dei pantaloni fantastici per l'estate Perché è una seta vegetale come ti ho raccontato nel mio video tutorial Che trovi il linkato qui sotto E che ti permette di utilizzare un tessuto rispettoso dell'ambiente E anche della tua pelle C'è poi la giacca da bambina 132 Sempre nelle taglie 110-134 Mi piace perché la si può realizzare trapuntata Anche per tanto cotone, imbottitura, cotone e la trapuntatura Oppure in tutti quei tessuti già trapuntati di per sé Che puoi trovare in commercio Mi piace perché ha lo slalom Questa sorta di sbieco double Che permette anche la lavorazione della giacca double Nel caso in cui tu la realizzassi senza maniche Pertanto se lo volessi trasformare in un gilet Puoi seguire il mio video tutorial dedicato a come effettuare la cucitura double Lo trovi linkato qui sotto E puoi imparare a realizzare queste cuciture belle da ambi i lati È coordinata con la giacca con scollo a listino 115 La versione da donna, da adulta Stessa tipologia di materiali Non mi piace tanto questo colletto Perché lo trovo di un centimetrino troppo alto Ma la modifica è molto semplice Accorcia il collo, lo fai un centimetro più basso E ottieni così quel bel colletto alla coreana Particolarmente delicato e buon ton Questo è veramente un centimetro di troppo Ma è facilmente risolvibile Molto belle invece le tasche di questo giacchino E le puoi trovare cucite nella mia sewing class Dedicata a cucire le tasche 2 Uno dei capi che prediligo maggiormente di questo numero L'abito con pizzo 107 Mi piace perché lo puoi realizzare in tessuto fermo Lo puoi realizzare a manica corta, manica lunga La gonna corta, la gonna lunga Ha tutta questa plissettatura sul davanti deliziosa in cupro Fai quest'abito in cupro e sarai bellissima Veramente tutte le stagioni E è molto bello perché può essere impreziosito In realtà da tantissime opzioni Tra cui il pizzo, tessuti comunque fermi Purché leggeri Dedicato alle taglie lunghe Il cardigan con scolla V modello 111 Non mi piace particolarmente Ma parto da un principio A me i prodotti così destrutturati Non piacciono molto Perché non richiamano proprio l'alta sartoria Dove il capo deve essere fatto su misura Però oggettivamente è un capo semplice da fare Nei tessuti di maglia Fondamentalmente quei tessuti Che richiamano l'effetto di lavorazione a maglia De gusti, bus comunque Questo abitino qui invece L'abitino con fiocco per bambina numero 130 È un abitino che mi piace particolarmente Perché per le bambine lo puoi realizzare in cotone Lo puoi realizzare in velluto Lo puoi realizzare anche in jacquard Lo puoi realizzare in tessuti leggeri O un po' più sostenuti Se lo fai in un tessuto leggero Lo sfondo piega cascherà moltissimo Se lo fai in un tessuto pesante Lo sfondo piega darà volume all'abito Pertanto in base alla scelta del tessuto Ottieni davvero delle personalizzazioni Veramente interessanti Cernira zip invisibile sul retro Ma hai imparato ad applicare la cernira zip Nella mia sewing class dedicata alle cernire Che ti linko qui sotto nella descrizione La gonna simmetrica Bella da realizzarsi in viscosa Bella da realizzarsi in cupro Bella da realizzarsi in seta Bella da realizzarsi solo esclusivamente In tessuti estremamente leggeri e fluidi Perché tutta questa lavorazione in sbieco Pretende categoricamente il tessuto leggero Non trovate alternative? Punto È bella perché non ha il cinturino O meglio il cinturino è nascosto Da una paramontura interna E quindi rende questa gonna particolarmente fluibile Io l'avrei fatta un po' più corta In giusto perché così fa un po' sciura Molto bella invece Questa è una pagina che mi piace tantissimo La blusa con volant 118 Nelle taglie della 30 sala 44 Bella perché Ha le rouge davanti Ha una pensina orizzontale nel seno Ha le maniche aperte morbide Ci posso montare un bordo elastico Come ti ho fatto vedere in un mio tutorial Cerca Sarapoghese bordo elastico Dove puoi imparare ad applicare il bordo elastico È facile, è lineare Perfetta per tessuti assolutamente leggeri Questo è veramente un must Ed è coordinata ai pantaloni Aderenti 106 Che qui, attenzione, vanno realizzati Solo ed esclusivamente con tessuti elasticizzati Solo ed esclusivamente il tessuto stretch Per questo progetto perché altrimenti il pantalone è completamente rovinato Per realizzarlo in tessuto stretch hai bisogno della taglia cuci Se no lascia stare Molto bello il fatto di avere questo taglio al ginocchio Che è in realtà il taglio che sagoma E consente questa linea Questa fisicità molto curvy Scusa, molto skinny E molto asciutta I pantaloni e la camicia sono abbinati fondamentalmente all'outfit Dedicato alla bimba Con la versione della stessa blusa che abbiamo visto prima in tinta unita Questa volta solo un po' più corta E pertanto non più ad abito ma a blusa E il modello 131 è perfetto da realizzare anche in cotoni stampati Come i cotoni stile Liberty Ci sono quelle cotonine leggere Che per le bluse vanno davvero molto bene Ma va molto bene anche la mussola di cotone Va molto bene tutta quella tipologia di tessuto leggero Che conferisce alla blusa un look decisamente portabile Interessante le shorts con risvolto 113A Se sei un amante del pantaloncino corto Se sei un amante del pantaloncino corto Questo modello fa per te da realizzarsi in cotone In picche di cotone In jacquard In tessuti comunque un po' sostenuti Attenzione Perché l'effetto carino del pantalone scenico È dato dal fatto che abbia un tessuto un po' sostenuto Questa è la condizione categorica Pertanto è un tessuto un po' pesantino È invece perfetto e credimi che se cambi il colore La userai tantissimo L'abito aderente 101 nelle taglie 34 alla 44 Perché è un modellino delizioso da realizzarsi in jersey Veste piuttosto aderente Togli quella magliettina camicina bianca che hanno messo sotto Ignorala Fa finta che non esista E scegli solo l'abito Infatti l'abito è corredato da una profilatura Nello scollo e nelle maniche Che lo rende veramente molto stiloso E ammetto che è un modello Che mi piacerebbe provare a realizzare Fammi tra l'altro sapere quali abiti vorresti provare a realizzare Scrivendomeli nei commenti Scorro avanti Spero di non perdere pagine Perché so che le perderò Infatti sono qui al progetto del parca Da realizzarsi in tessuti categoricamente leggeri Ma non troppo dedicati alle giacche Questo parca è perfetto anche in linone In lino pesante In seta grezza di quella molto pesante È impegnativa per la lavorazione Ma non è difficile Se vuoi realizzare quella tasca salariana Iscriviti alla mia Sowing Class Tasche Volume 2 Perché ti permetterà di realizzare Tante diverse tipologie di tasche Molto bella comunque appunto In tessuti particolarmente pesanti Che conferiscono proprio al parca La sua struttura Scorriamo, scorriamo, scorriamo E andiamo a trovare la giacca Che ha da 105 5 su 5 come vuoto Perché è veramente una gran bella giacca È strutturata Ha difficoltà 3 Ragionevolmente Perché c'è il collo Perché ci sono i bottoni Perché ci sono le tasche Inserite sul fianchetto Ma è una giacca che merita E che veste davvero bene Grazie proprio a tutti questi tagli Di cui è caratterizzata Perfetta in tessuti da giacca Pertanto tessuti un po' sostenuti Ideale invece il tessuto molto leggero Per la blusa con le nervature Perché questa blusa con nervature La puoi realizzare in sete In viscosa In raso È la stessa identica blusa Che abbiamo visto prima Come modello di camicetta È sempre lo stesso Cambiano alcune varianti Questa non ha le rouge Nella lista bottonatura È liscia Al fiocchetto nel colletto Questo ti fa capire Come modello passepartout E servono le stesse identiche regole Della camicetta Che abbiamo visto Fiorata ad inizio della rivista Pertanto Tessuti leggeri E abbinamento Di sicuro successo Torna il famoso abito Con le nervature frontali Guarda quanto è bello In tinta unita È veramente un abito Che mi piace E che vorrei avere Nel mio guardaroba Perché È comunque un abito passepartout Devi avere nel guardaroba Un abito a tubino Sobrio Casto Austero O blu O nero Pertanto Questo secondo me Potrebbe essere Uno degli abiti Che mi realizzerò Perché a tutti gli effetti È un tubino Pense verticale Cinturino Che taglia la vita E taglia la figura E la sagoma Bene Realizzato in un tessuto Leggermente elasticizzato Come il punto Roma La blusa Con sprone Incrociato 121 Carina Veramente E è perfetta Anche per tutte le fisicità Perché è perfetta Per chi ha poco seno Perché la riga Lo valorizza Perfetta Per chi ha tanto seno Perché scegli una tinta unita E così Tagli fondamentalmente Il punto del torace Perché è tagliata il torace È perfetta Anche per chi È una cuciamica Un po' burrosa Perché non ha le maniche Tagliate fondamentalmente Non ha la spalla tagliata Ok E quindi ti veste bene Ed ecco qui che torna Ti ricordi L'abitino di prima Che ti avevo detto Toglici Categoricamente La camicina sotto Ecco qui La versione Maglia È veramente molto bella Molto bella Perché si realizza in jersey Ha questa rifinitura Contrasto nel bordo superiore Ha una linea Molto semplice Molto facile Perfetta per le principianti In jersey di cotone Jersey di viscosa Jersey Purché sia jersey Quindi tessuto elasticizzato Da lavorarsi in tagliacucci O eventualmente anche In macchina Appunto copertura Ed è coordinata E questo è veramente Un mix Che vorrei realizzarmi Per l'autunno Sono ricca di buoni propositi Con la gonna a matita 122A Perché è bella Questa gonna a matita Perché ha questo cinturino Applicato sopra Se ti piace Lo metti Se non ti piace Usa solo lo stampo Della gonna a matita E usala come combinata Se ti piace Questo stampo Di questa gonna Puoi anche Attaccarci tecnicamente Sopra la camicina Che avevamo visto E creare un abito Gonna Attaccato alla camicina Proprio in prossimità Del punto vita E così crei Un effetto Che sembra uno spezzato Ma in realtà Ha un abito intero Ti basterà provarlo E vedrai Che sarà Un sicuro successo Questa giacca Non mi ci soffermo molto Il blazer shankratro Perché tecnicamente Mi piace Per la lavorazione Asimmetrica Della Elissa botonature Ma secondo me Ciò che ha rovinato Il capo O meglio Ciò che l'ha invecchiato È stata questa tipologia Di collo frontale Il collo dietro Collo a cratere alto Molto bello Voto 10 più Sta benissimo Poi con la penza Sulla spalla È veramente fenomenale Ma Il colletto davanti No Comunque si realizza Nei tessuti per giacche Pertanto lo Chanel Pertanto il fresco lana Il crepe di lana In tutti quei materiali Che sono comunque Un attimino Dedicati alle giacche Idem per il pantaloncino Vedi gli shorts Con risvolti 113 Come ti dicevo prima Serve un tessuto Sostenuto Per fare il pantaloncino Corto Perché Ne deve dare sostanza Il valore aggiunto Di questo pantalone Pro è che è a vita bassa Pertanto se stai cercando Un pantaloncino Che ti tagli un po' Il punto vita Perché lo vuoi A vita bassa Questo è il pantaloncino Che fa per te Magari lo puoi Magari lo puoi anche allungare Direttamente fino alla caviglia E ottenere in versione Pantalone lungo Questo abito Con gonna ampia Il 120 Non è altro che La blusa a righe Che abbiamo visto prima C'è niente a dire di più Semplicemente L'hanno attaccata Ad una gonna Vedi come puoi creare i mix Fai una gonna Con l'elastico Attaccata alla blusa Fai la gonna Invece a tubino La attacchi comunque A questa blusa Se vuoi Perché crei L'arricciatura In prossimità Del punto vita Quindi mix And match Crea questi mix Che ti permettono Proprio di Creare sempre Con gli stessi Identici tessuti Leggeri Fluenti Lo chiffon La viscosa Molto leggera Dei mix Veramente interessanti E tornano i pantaloni Gli stessi Che abbiamo visto prima Quelli con la balza Ti ricordi Da realizzarsi Come ti dicevo In tessuti fermi Io ammetto Che la variante Del pantalone Che scende giù lungo La preferisco Se hai voglia Di un pantalone Che veste corte Veste comunque Relativamente Non troppo aderente Nella coscia Realizza questo pantalone In corto Lo tagli corto Togli quelle Toschine laterali Fai un pantalone liscio E hai un Veramente comodo E fruibile Pantaloncino corto In cotone Abbiamo poi Il servizio Dedicato al New Classic Con questa gonna Asimmetrica Carino l'effetto Della simmetria Pelle E leopardato Comunque insomma Stile Jungle Style Come effetto È carina La vaschina In finta pelle Perché Crea Un'illusione Ottica Non simmetrica E quindi È veramente Utile Bello il fatto Che non ci sia Il cinturino Perché hai Una paramontura Interna Che è fliselinata E una zip Invisibile Poi alla fine Poi alla fine Di questo video Faremo un riassunto Su quelle che sono state Le modalità operative Per la realizzazione Di tutti questi pezzi Il soprabito Con cappuccio 114 Devo ammettere Che lo devo rivalutare Perché subito L'ho guardato E non mi ha convinto Perché magari Un soprabito Con la pence Orizzontale Non mi piaceva tanto Invece Guarda Che è veramente Molto fruibile Da realizzarsi In tessuti Idrorepellenti Ma anche magari In un bel linone Grezzo Pesante Dedito proprio Gli spolverini Così la mezza stagione Quindi quei linoni Grezzi Pesanti Perfetti Per i capi spalla Toglierai il cappuccio Tecnicamente Ci farei semplicemente Anche un colletto a fascetta Ma diventa un capo Veramente molto Paspartù Sai Fidati Torna Il cardigan 112 Che abbiamo visto prima Nella variante grigia Adesso torna In questa variante Immaculata Stessa identica Tipologia di ragionamento I tessuti di maglia I tessuti dedicati All'effetto Finta Lavorazione a ferri Li puoi trovare In commercio Sono comunque Cucibili con la tagliacuce O con la macchina Appunto copertura Perché richiedono Dei punti di cucitura Elasticizzati Ma poi parleremo Anche di come cucire Alla fine di questo video Un po' Tutta questa carrellata Di questa rivista Viene riproposta La t-shirt Vedi quanto è carina La t-shirt Aderente 102B Nelle taglie 34-44 È meravigliosa Guarda La puoi realizzare Anche con questi Tessuti Dalle stampe Audaci Semplicemente Applicando un gordo A tinta unita È veramente Molto molto bella Fammi sapere Cosa ne pensi Di questa t-shirt Perché secondo me È bella Da realizzarsi Anche in pizzo Elasticizzato Per un look Più elegante O in un jersey Di cotone Per una t-shirt Più sportiva Poi la manica Tre quarti È sempre Sinonimo Di bon ton Gusto Ed eleganza Viene riproposta La stessa camicia Che abbiamo visto Un po' Il ferruge Di questo numero Questa camicetta Questa volta In versione lunga Il modello 116 È questa Maxi blusa Che altro non è Che la camicetta Che abbiamo visto prima Pertanto Stessi identici Tessuti Molte leggeri Crap de chine Chiffon Cadì Leggero Da camiceria Viscosa Cupro È veramente Una camicia Molto bella Secondo me Anche da abbinarsi A un paio Di leggings Sotto Per avere appunto Quella look Un po' Smart casual Che però Ben si può Prestare Ad alcuni stili Viene riproposto Il blazer Shankrato 119B Come ti dicevo Prima Non mi piace Il collo Il collo Ha invecchiato Il cartamodello Perché altrimenti Sarebbe veramente Un gran bel Modello Ricco anche Di tagli Verticali Con le pants Che sfiancano E sagomano La figura Da realizzarsi Ovviamente In tessuti fermi Se ti piace Tessuti piuttosto Corposi Sostenuti Dedicati Soprattutto Alla lavorazione Dei capi Spalla Comunque Meraviglioso Col collo Dietro Il cratere Strepitoso La stessa Gonna A matita Che abbiamo Visto prima La 122 Questa volta È proposta In versione Animalier E un po' Più lunga Questa è L'unica Variante Ti consiglio Di realizzarla In tessuti Leggermente elasticizzati Per fare in modo Che Il tuo punto Fianco Possa essere Cucito Veramente Al netto Della vestibilità Della tua Circonferenza Fianco E poter essere Così Gradito Un aspetto Visivo Di maggiore Aderenza Su un cinturino Che questa volta Sagoma davvero La figura E se lo realizzi In tessuto Leggermente elasticizzato Ti permette Di sagomare Davvero I fitting Anche Delle taglie Un attimino Più burrose Selezione Dedicata Alla moda Curvy Con Il pantalone Largo Pantalone Diritto C'è più che largo Insomma Pantalone A taglio Diritto Senza Tasche Pulitissimo Senza Cinturino Questo è il davanti Solo con la piega Mentre il dietro Ha la pensina Eccola qui che compare Due pants Nella gluteo Dietro Ed è un pantalone Decisamente Evergreen Da realizzarsi In cupro O in cadio Comunque in tessuti Leggeri e fluenti Da pantaloni Viene proposta La variante Camicetta Per la moda Curvy Sempre circa La stessa linea Con la differenza Che questa volta Ti gioca su una bottonatura Con l'asola Fatta in tessuto Se vuoi imparare A fare l'asola In tessuto C'è una mia Sewing class Dedicata alle liste A bottonature Dove ti insegna A realizzare Questa asola Molto bello Il punto smoke Nel polsino Lo puoi anche Trasformare In una camicia A manica corta Se vuoi utilizzare Questa camicetta Dedicata All'estate Non apprezzo Particolarmente Ma è solo Un mio gusto Personale La gonna Midi 127A Perché Trovo che Tutte queste punte Che saltano fuori Creino un po' Di confusione Sulla moda curvy Cioè sta bene Per tagliare un po' La figura Ma si corre il rischio Se si è un po' Inesperte Di fare un vero pasticcio Su tutto quel volume Che si crea Al di sotto Dei fianchi Però La puoi realizzare In raso La puoi realizzare Anche in raso Da sposa Che è un raso Un po' più pesante Fondamentalmente La puoi sempre realizzare Senza cinturino Ma volendo In questo caso Ti consiglio di Aggiungere un attimino Un cinturino E la versione un po' più lunga Questo è esattamente Lo stesso modello Il 127B È uguale 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 Solo che un attimo Più lungo La puoi realizzare In raso La puoi realizzare Comunque in tessuti Molto fluenti Per esempio Qui la gonna fatta In cotone Non ci sta proprio La gonna fatta In seta Sì ci sta La gonna fatta In raso Di seta Sì ci sta La gonna in Picchè Di cotone Assolutamente No Bello L'abito con cintura Lo voto Con una nota Positiva Perché ha questo Scollo a V Che piace sempre Alla moda curvy Perché dà respiro Al décolleté Ha questa leggera Arricciatura Solo nel corpino Non nella gonna Perché ha una gonna A tubino Questo ti fa capire Che puoi mixare La gonna asciutta E una camicina morbida Mescolarle assieme Perché poi Tutta la misura Gonna più corpino Combaci Fondamentalmente Ed è un capo Decisamente facile E molto passepartout Da realizzare In tessuti dedicati Agli abiti Pertanto abbastanza Leggeri La giacca trince 129 Sempre dedicata Alla moda curvy Mi piace essere realizzata Anche in una lana Tartan Mi piace anche Ser realizzata Magari in un fresco lana O in un principe di galle Se iniziamo ad avvicinarci A tutti quei tessuti Anche un attimino più Dedicati proprio All'autunno Fondamentalmente E quindi Tessuti sostenuti Attenzione Perché va tutta foderata Categoricamente Insomma Foderata E questa gonna lunga Che abbiamo visto prima La puoi tranquillamente Appunto Abbinare A questo Parca Presentato A questo trench Insomma Che viene presentato Viene altresì Coordinato Dalla stessa camicina Che abbiamo visto prima Quella che avevamo visto Esattamente qui Ecco E la stessa identica camicina Proposta in un altro tessuto Come vedi Cambi la stoffa Cambia L'effetto estetico Molto bella Se realizzata In seta O in crepe de chine O in chiffon Perché conferisce Soprattutto la moda curvy Una notevole leggerezza Nella vestibilità del capo Ed è veramente facile Da realizzare Uno degli abiti che preferisco Comunque per la moda curvy È proprio L'abito 124 Perché a tutti gli effetti Ecco qui abbiamo Una lavorazione centrale Veramente appena accennata Che quindi Si dà movimento Senza però eccedere E ha lo stesso corpino Fondamentalmente Dell'abito Che avevamo visto in precedenza Questo con cintura Semplicemente È cambiata la gonna La gonna non è più a tubino La gonna un attimo Svasata Con la lavorazione dietro Un po' a campanella Pertanto È veramente Un prodotto Fattibile E con questo In realtà La rivista Burda Chiude Il suo numero Ma Diamoci un paio Di informazioni Utili Legate non solo Allo sfoglio Fondamentalmente Della rivista Burda Ma anche In generale A come si possono Cucire Tutti questi abiti Allora Se abbiamo a che fare Con tessuti leggeri Ricordati che Devi sempre comunque Utilizzare le fliseline Ma devi usare Fliseline molto leggere Da seta O da cotone Nei girocolli E negli incavi manica Ricordati sempre Di applicare Delle fliseline Per sbieco Che diano sostegno E che permettano Alla curvatura Di non cedere Se devi lavorare Dei capi Particolarmente costruiti Realizza sempre prima Un capo in telina Ti assicuro Che il tempo Che perdi prima Per andare a realizzare Il capo in telina Lo guadagni poi Perché non dovrai fare Sostanziali modifiche Al tuo progetto E potrai dunque Cucirlo E indossarlo direttamente Se poi hai Dei dubbi Domande o curiosità Sulle diverse tecniche Per andare a realizzare I progetti Che hai visto In questo numero Di burda Ti porta ad una Riflessione Molto creativa All'interno di Sarapoyese Academy Puoi trovare Per esempio Un corso Dedicato a creare Modifiche Al cartamodello Della gonna Questo corso Non solo ti permette Di creare Il cartamodello Della gonna Ma ti insegna Anche fondamentalmente A comprendere Come sono fatti I cartamodelli Delle gonne E dunque Ti aiuta A modificare Il tuo cartamodello Burda Secondo la tua necessità Se devi poi Applicare una cerniera Zip invisibile Su un abito Il corso Cerniera Zip È il corso Che fa per te E se vuoi imparare A modificare Alla perfezione Un corpino Anche burda Non puoi Non avere Crea e modifica Cartamodello Del corpino Tra le tante Tasche che hai visto C'è il corso Tasche 1 Che ti insegna A realizzare Tantissime tasche Decisamente utili Ed è corredato Anche dal corso Tasche 2 Che si trova Più avanti Dedicato proprio Alla possibilità Il corso Tasche lo vediamo Eccolo proprio qui Dedicato alla possibilità Di realizzare Anche la tasca Sariana Che hai visto All'interno Di questa rivista Infine Ti ricordo Che all'interno Di cucire Scollature perfette Puoi realizzare Un perfetto scollo E che le liste Abbottonature Delle camicette Inclusa quella Con i bottoncini Ricoperti Che hai visto Nella camicina rosa La puoi trovare All'interno Di liste Abbottonature Perfette Questo insomma Ti fa davvero Proprio capire Che all'interno Di Sarapogliese Academy Puoi trovare Tantissimi corsi Che puoi utilizzare Anche utilizzando E cucendo I cartamodelli Burda Perché all'interno Di Sarapogliese Academy Puoi trovare Non solo una community Che cresce Mese dopo mese E che ti aiuta A cucire Il tuo guardaroba fai da te Ma puoi trovare Soprattutto degli spunti Molto utili Con tante inquadrature Diverse Tanti punti luce Ottimamente illuminati Che ti permettono Di imparare A cucire online Meglio ovunque E poter soprattutto Rivedere i contenuti In ogni momento Tu desideri È decisamente meglio Rispetto ad un corso In presenza Pensaci Nel corso in presenza Devi prendere appunti Devi ricordarti Che cosa avevi fatto Vuoi rifare Quell'argomento Un mese dopo Ma non trovi Una foto Fatta con il tuo smartphone Che ti faccia capire Bene quel passaggio Invece In Sarapoise Academy Puoi riaccedere I contenuti In ogni momento Commentarli Postarli Condividerli Con la community E imparare davvero A portare Il tuo cucito A portata di click Pertanto Bene Cuciamici E cuciamiche Spero di cuore Che questo mio video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollicione Alzato su questo video E mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Spuntando anche La campanellina Per restare sempre Sintonizzati Su tutte le mie pubblicazioni Un abbraccio sartoriale La vostra socialist Sara Pogliese Sintonizzati Sintonizzati